Grazie mille, grazie di essere arrivati, grazie per la puntualità, grazie di aver deciso di trascorrere con noi questa prossima oretta. Oggi parliamo, durante questo webinar, di trasparenza e di processi aperti. L'idea era di provare a concentrarci su quello che è il processo che genera il dato, sempre in logica di apertura, di confronto, di governo aperto. Questo webinar si svolge nella settimana dell'amministrazione aperta, quindi immagino abbiate avuto modo di notare che molti eventi si stanno svolgendo in queste ore sia in Italia che all'estero, perché per quest'anno, per il primo anno, la settimana dell'amministrazione aperta coincide con l'Open Government Week, che è un'iniziativa internazionale promossa da Open Government Partnership, che è un po' il nostro punto di riferimento per tutte quelle che sono le attività di Open Government. L'Italia collabora direttamente con l'Open Government Partnership da più di un po', nel senso che stiamo chiudendo il quarto piano d'azione, quindi il quarto ciclo di programmazione sui temi del governo aperto. Questa settimana dell'amministrazione aperta ha la volontà di esporre, di ragionare, di chiacchierare, di dialogare con tutti i soggetti pubblici, privati, altre amministrazioni che in qualche modo collaborano sui temi del governo aperto, e quindi di provare a restituire un'idea di quello che è lo stato di fatto delle misure di Open Government in questo momento in Italia. Oggi lo facciamo con questo webinar che, come vi dicevo, è uno dei tanti, nel senso che questa settimana come Formez, in collaborazione con tutta una serie di soggetti che sono stati così gentili da decidere di dedicarci un po' del loro tempo, hanno raccontato il governo aperto, lo stiamo facendo giorno dopo giorno con un ciclo di webinar piuttosto serrato, ne abbiamo circa un paio al giorno per tutti questi giorni della settimana. Oggi abbiamo fatto il primo giro di boa, quindi abbiamo un'altra giornata di oggi e poi domani per la conclusione di questa settimana intensa. Io mi avvio per passare la parola a Sergio Agostinelli che introdurrà e terrà questo webinar passando di volta in volta la parola ai nostri relatori. Vi dico giusto un paio di cose tecniche, vi pregherei di continuare a usare la chat che avete utilizzato finora, non soltanto per il buongiorno e per dirci che va tutto bene, ma anche se vi dovesse venire in mente per fare domande ai relatori di oggi. Ci occuperemo noi di prenderle dalla chat e di riportarle ai relatori a conclusione dei rispettivi interventi o a conclusione dell'intero webinar. Come tra tradizione in perfetta logica di Governo Aperto e di Open Access, la registrazione integrale di questo webinar sarà disponibile dalla stessa pagina di Eventi.pia dove vi siete iscritti, quindi lo troverete di qui a qualche ora, mi auguro. Sulla stessa pagina troverete le slide che i nostri relatori di oggi avranno modo di mostrare durante i loro interventi. Il programma, come dicevo, è piuttosto fitto, l'abbiamo immaginato insieme a Sergio sostanzialmente in due blocchi, cioè da un lato l'emergenza coronavirus, la risposta nazionale e il secondo blocco sui sistemi aperti per il monitoraggio dei programmi, i piani e gli interventi degli appalti pubblici. Quindi, ancora una volta, l'idea è di provare a restituire un'analisi dello stato di fatto rispetto a due variabili che in questo momento sono da un anno a questa parte particolarmente dedicata, cioè l'esigenza dell'emergenza coronavirus e la programmazione e gli interventi degli appalti pubblici. Io credo di avervi raccontato tutto, ho rubato qualche minuto alla presentazione di Sergio giusto per dare modo a tutti di fare accesso, visto che in aula ci siete già abbastanza. A questo punto io chiuderei il mio microfono alla mia webcam, Sergio ha già la webcam aperta, gli chiederei di aprire il suo microfono e gli passo la parola. Buongiorno a tutti. Prima cosa, sarà sicuramente importante vedere questo webinar anche come inizio di un processo diverso anche per quanto riguarda i temi dei dati aperti, nel senso che abbiamo voluto spostare il tema dei dati aperti anche verso il tema dei processi aperti e lo abbiamo voluto fare anche all'interno di quelli che sono un po' le nuove sfide che tutti siamo stati portati a cercare in questo anno complesso, il 2021, che ha un po' rivoluzionato sia il modo di funzionare all'interno delle pubbliche amministrazioni, ma anche da parte dei cittadini, della società civile che hanno dovuto trovare nuovi modi per farsi sentire per quanto riguarda la società civile, ma anche l'APA ha dovuto trovare nuovi modi per rispondere alle forti richieste che arrivavano. Si tratta quindi di ripensare un minimo il funzionamento dei nostri modelli di democrazia inclusiva, proprio nell'ottica dell'open government. Come si può fare? Si può fare sicuramente cercando delle traiettorie, dei percorsi nuovi per rinnovare questa fiducia tra governo e cittadini. Proprio perché sono mutate le priorità che tutti noi abbiamo avuto, si tratta di ragionare su quali possono essere i limiti della non partecipazione da parte della società civile, ma anche i limiti dell'APA a non ascoltare e non aprire un dialogo con la società civile, in particolare quando le decisioni personali e di sistema si basano sui dati. Questo passaggio cruciale per chi si occupa di dati da tanti anni era scontato, però molti sono arrivati proprio in questo anno a capire che il dato alla fine diventa un elemento di decisione troppo importante. Quali possono essere le sfide per trovare dei nuovi modi di relazionarsi, sia per il sistema pubblico che per la società civile, su questo nuovo rapporto? Allora noi cercheremo di farlo, abbiamo scelto di farlo sui due ambiti più caldi in questo momento, proprio sulle informazioni sanitarie legate alla pandemia e non meno importante, specialmente in quest'ottica di rinnovamento, ripensare anche una ripresa nuova, economica, a causa proprio della pandemia, in modo nuovo anche come è stato fino adesso per quanto riguarda la gestione degli investimenti pubblici, che diventano un altro banco di prova importantissimo. A tutti i relatori io ho anticipato che cercheremo di trovare una lettura anche a queste tre domande, magari non in questo velocissimo webinar, ma nel futuro, a riflettere su quali sono le lezioni che abbiamo appreso in quest'anno complesso, da un punto di vista ovviamente della modernizzazione e della gestione dei dati, per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, ma anche per quanto riguarda l'uso che ne hanno fatto i media e la società civile. Ho chiesto a tutti anche di ragionare su quanto è importante avere, oltre che dati aperti e tempestivi, anche le informazioni sui processi di costruzione di questi dati. Infine, di immaginare quale potrebbe essere in futuro il dialogo e la collaborazione tra PA e società civile in tema di dati. Quindi, detto questo, io inviterei subito la prima sessione di questo webinar e chiederei a tutte e tre le persone che abbiamo chiamato oggi, cioè a Serena Battilomo del Ministero della Salute, a Dantinio Bell e a Umberto Rosini, di aprire le proprie webcam, mentre magari Gianfranco anticipa le slide di Antonino, che dovrebbe essere la prima persona che parla, però inviterei un po' tutti e tre i relatori a intervenire anche sulle presentazioni del collega. Avete dieci minuti a testa, diciamo che questa sessione dovrebbe durare una mezz'oretta, noi raccogliamo le domande e alla fine le porremo. Quindi do immediatamente la parola ad Antonino, che ringrazio tantissimo per questa disponibilità, sapendo quanto è complesso trovare un'ora della propria giornata, ma poi anche costruire le proprie slide, cioè tutta questa, tra virgolette, liturgia dei webinar non è una cosa semplicissima come può sembrare. Grazie, la parola ad Antonino. Io tolgo il... Perfetto, grazie, buongiorno a tutti. Sono Antonino Bella, sono un epidemiologo statistico dell'Istituto Superiore di Sanità e mi occupo, sono uno dei responsabili della sorveglianza integrata Covid-19, che è stata appositamente messa a punto per l'emergenza sanitaria. Io oggi vi parlerò un po' della storia del processo di raccolta dei dati e della fruibilità dei dati sia ai politici, quindi ai decisori, ma anche la fruibilità del dato al cittadino. E quali sono stati gli strumenti che l'Istituto Superiore di Sanità ha messo in atto per questo scopo. Brevissimamente la storia. Dal primo momento, innanzitutto l'Istituto ha sempre avuto il ruolo di organizzare e realizzare sistemi di sorveglianza di patogeni infettivi e anche per l'emergenza SARS-CoV-2 abbiamo avuto questo compito e insieme al Ministero della Salute abbiamo in una prima fase, che era la fase nel momento in cui erano arrivate le prime informazioni dalla Cina di questo nuovo virus e dell'epidemia, ci siamo subito attivati innescando la raccolta dei dati utili in un sistema di sorveglianza già esistente che è il sistema di sorveglianza delle forme gravi di influenza confermata che io stesso coordino. Quindi un sistema di sorveglianza che è stato flessibile, è stato adattato alla situazione perché sostanzialmente raccoglieva dati su soggetti che transitavano in terapia intensiva con problemi respiratori, con forme gravi respiratorie, a cui veniva effettuato un tampone e questo tampone normalmente si va a vedere se c'è un virus influenzale, in questo caso avevamo anche la conferma per il SARS-CoV-2. Quindi questo sistema che cosa ci ha permesso? Ci ha permesso già nella fase di fine gennaio, quando ancora erano gli albori dell'emergenza, di andare a monitorare tutti i casi provenienti, che avevano una storia di viaggio proveniente dalla Cina. Questo sistema, come vedete, a tutti i quadratini blu corrispondono a ciascuna persona, risultata poi negativa al test di laboratorio. Il sistema ci ha permesso di evidenziare i primi due cinesi presenti in Italia, i primi due casi importati e poi il terzo caso, quei quadratini che potete vedere in colore arancione. Ci ha permesso anche il 20 febbraio del 2020 di rilevare la presenza del primo caso autottono in Italia, il 20 febbraio con data di inizio sintomi il 10 febbraio, il quadratino rosso. A questo punto il sistema di sorveglianza messo in atto non era più idoneo perché avevamo bisogno di informazioni più dettagliate e quindi il 27 febbraio il Consiglio dei Ministri emana l'ordinanza numero 640 che ha istituito il sistema di sorveglianza integrato Covid-19 dando il coordinamento all'Istituto Superiore di Sanità. Che cosa raccoglie questo sistema di sorveglianza? Raccoglie tutti i casi positivi con conferma di laboratorio molecolare in prima analisi e poi anche con test rapido del virus SARS-CoV-2 in uno della rete dei tanti laboratori di regionali appositamente individuati per tale scopo. È stata creata una piattaforma DOC per raccogliere i dati. Da subito i sistemi di monitoraggio esistenti sono stati due. Il sistema che avevo appena descritto che è quello dell'Istituto Superiore di Sanità è quello di dati aggregati creato dal Ministero della Salute barra Protezione Civile che poi il collega Umberto Rosini vi approfondirà. Perché sono stati messi questi due sistemi paralleli che partono dagli stessi dati? Perché ovviamente, come già immaginiamo, il dato giornaliero del aggregato è un dato molto più tempestivo anche se a volte può mancare di dettaglio e di qualità. Il sistema invece creato dall'Istituto Superiore di Sanità prevede la segnalazione dei casi individuali per ogni persona noi chiediamo una serie di informazioni e quindi è meno tempestivo perché ha bisogno di una raccolta di dati ma ha un dettaglio maggiore e quindi su questi casi noi abbiamo potuto fornire una serie di elementi dettagliati su quanto è il tempo di incubazione qual è l'età media chi si ammala di più chi si ricovera di più qual è l'età in cui avviene maggiormente il decesso e poi c'è un check sulla qualità dei dati inseriti il sistema di sorveglianza molto così grossolanamente raccoglie dati anagrafici il setting dove è possibile che si sia infettato il soggetto una serie di informazioni di laboratorio la data del prelievo, la data di diagnosi le varianti che sono stati di recente inserite nel sistema di sorveglianza perché i sistemi di sorveglianza per definizione devono essere flessibili al bisogno devono essere integrati di ulteriori informazioni necessarie le caratteristiche professionali il ricovero, lo stato clinico del soggetto i fattori di rischio e l'esito finale quindi la guarigione o ahimè il decesso in una prima fase la piattaforma veniva alimentata manualmente dalle regioni in una seconda fase c'è stata una importazione massiva dei dati a livello regionale quindi qui abbiamo capito per la prima volta che in Italia esistevano 21 sistemi informativi regionali che sono stati adattati al fine di rendere omogeneo l'integrazione con il sistema creato dall'istituto il flusso è molto complicato partendo dall'alto noi abbiamo casi provenienti dagli ospedali e casi domiciliati quindi le persone che hanno una sintomatologia più lieve tutte le informazioni quindi sia del medico di famiglia sia dei laboratori regionali di riferimento che fanno la tipizzazione del tampone devono collocare con l'autorità locale quindi la ASL e poi questi dati devono essere integrati e inviati all'autorità centrale regionale che provvede a monitorare la qualità la completezza e avviarle quotidianamente all'istituto superiore di sanità quindi è un flusso molto complesso che in una prima fase è stata una criticità ma che poi man mano che andavamo avanti nel tempo sono sempre sistemi che sono andati sempre migliorando ovviamente non vi dico il lavoro che c'è dietro che l'istituto fa settimanalmente per migliorare la qualità del dato acquisito e quindi il confronto con i dati aggregati del Ministero della Salute barra protezione civile la completezza delle informazioni più importanti che noi raccogliamo e quindi anche la congruità tra le informazioni raccolte quali sono gli strumenti che l'istituto superiore ha messo in atto per diffondere questi dati? sono molteplici abbiamo iniziato con una infografica giornaliera e con dei rapporti settimanali molto dettagliati con un appendice che andava a fare un approfondimento regionale all'interno della regione provinciale successivamente siamo passati a una dashboard interattiva che l'utente può interrogare e fare un focus su alcuni aspetti a cui maggiormente è interessato una dashboard che ha una visione complessiva dall'inizio, dal primo caso al caso odierno e una dashboard che dà invece un focus sugli ultimi 30 giorni un'attività molto importante che abbiamo cominciato a sviluppare dall'autunno dello scorso anno è la disponibilità dell'open data noi abbiamo messo sul sito del portale epicentro dell'istituto tutti i dati in forma aggregata resi disponibili su file di tipo testuale abbiamo messo la metodologia per il calcolo dell'RT e anche i dati che l'istituto settimanalmente utilizza per il calcolo degli famosi RT quindi una trasparenza e una possibilità di ricalcolare in autonomia questi indicatori un altro tipo di disponibilità dato è ovviamente sulle pubblicazioni uno degli ultimi report che abbiamo fatto è proprio sulla letalità e mortalità da covid e alcuni approfondimenti metodologici e infine il ritorno delle informazioni l'abbiamo fatto attraverso i nostri portali il portale dell'istituto e il portale dell'epidemiologia epicentro sempre dell'istituto superiore di sanità dove si possono trovare tutte le informazioni di cui vi ho parlato queste ultime concludo la mia intervento dicendo a che cosa sono serviti i dati oltre a dare delle evidenze e a mostrare l'andamento dell'epidemia anche al cittadino e in generale a chi è interessato l'utilizzo che è stato fatto anche dei dati è un utilizzo importante per i decisori che hanno preso decisioni nel chiudere o non chiudere nelle zone rosse o nelle zone da tenere liberamente aperte attraverso i dati di sorveglianza ma attraverso anche altri dati aggregati che l'istituto superiore di sanità settimanalmente raccoglie tutto questo ha reso possibile la valutazione settimanale degli indicatori di rischio attraverso un decreto legge del 30 aprile del 2020 che ha reso possibile ogni settimana pubblicando nel sito del ministero la valutazione regionale il monitoraggio regionale i famosi colori delle regioni quindi è stato anche una disponibilità per i decisori per i politici che hanno preso delle decisioni e infine concludo con l'ultima slide dove faccio vedere come i dati raccolti dall'istituto al centro sono stati resi disponibili a diverse istituzioni che insieme a noi hanno dato delle evidenze che sia il mondo scientifico ci richiedeva ma anche ovviamente i politici stessi per prendere decisioni faccio degli esempi con il ministero della salute abbiamo fatto una interoperabilità che poi Serena vi farà vedere attraverso il record linkage tra i casi e i vaccinati per poter dire poter esprimere un giudizio se i nostri vaccini la nostra copertura vaccinale è tale da avere un'efficacia poi sul campo oppure con l'INA abbiamo scambiato informazioni sugli operatori sanitari con l'ISTAT abbiamo potuto collaborare con le cause di morte e stimare l'eccesso di mortalità con l'FBK di Trento abbiamo potuto attraverso i dati resi disponibili il calcolo dei famosi RT insomma i dati resi disponibili hanno tanti vantaggi e sono necessari a essere messi in condivisione con le altre istituzioni per appunto rispondere a tanti interrogativi che questa epidemia ci ha richiesto io ho terminato il mio intervento grazie per l'attenzione chiedo magari alla dottoressa Serena Mattilomo per intervenire è stato un intervento perfetto poi raccogliamo gli spunti poi ci ritorniamo grazie buongiorno a tutti grazie per anche averci invitato per poter raccontare un po' di questo cambiamento che c'è stato insomma anche grazie all'emergenza sanitaria che ci ha costretto un po' tutti quanti a collaborare ancora di più in maniera molto più tempestiva e cercherà di dare il massimo valore alle informazioni e ai dati disponibili io ho scelto diciamo di parlarvi di due sistemi di due fonti dati molto importanti che abbiamo utilizzato che stiamo utilizzando come Ministero della Salute uno è il tema del contattresi digitale del sistema di allerta covid dell'app immuni e l'altro il monitoraggio del piano dei vaccini il sistema di allerta covid-19 e quindi l'utilizzo la possibilità di utilizzare una app di contattresi digitale in supporto al contattresi tradizionale che durante la fase soprattutto di prima grande contagio insomma successiva veramente al primo lockdown perché l'app Nunes è stata rilasciata il primo giugno del 2020 è stato disciplinato appunto dal decreto legge del 30 aprile 2020 il sistema di allerta covid ha da un lato l'app immuni che è il front end del cittadino e che ad oggi è stata scaricata da 10 milioni più di 10 milioni di persone e poi dal lato c'è un front end operatore del sistema tessera sanitaria per poter caricare le chiavi tech delle persone positive e dietro ancora c'è un back end gestito dalla società Sogei che consente al ministero della salute e alle regioni di avere dei dati di analytics che in questo caso essendo l'app Immuni un'app diciamo anonima non identificata diciamo a livello individuale sono dati che vengono rilevati su base provinciale come funziona l'app Immuni? spero e mi auguro per tutti l'abbiate installata e non l'abbiate disinstallata perché purtroppo ultimamente quello che stiamo registrando è che molti dicono ma l'app Immuni non serve più invece in questo momento che si riattiva l'apertura diciamo e di nuovo aumentano i contatti acquisirebbe maggiore valore noi provvederemo adesso anche grazie al Green Pass al certificato verde Covid-19 l'app sarà uno degli strumenti a disposizione per scaricarlo e avere il certificato verde e quindi ci auguriamo di poter fare anche una campagna di rinforzo per l'utilizzo dell'app l'app funziona appunto per il contattese in digitale scambia delle chiavi tra i telefoni in prossimità in maniera assolutamente anonima e chi è positivo poi può caricare nel back-end attraverso o un operatore sanitario o un call center o oggi anche attraverso l'autosblocco con la stessa app che devo dire è una funzione molto utilizzata diciamo da quando abbiamo fatto l'autosblocco le persone preferiscono fare le cose da soli senza farse aiutare dagli operatori e diciamo caricando queste chiavi nel back-end consente di allertare per questo sistema di allerta le persone che sono comunque state a contatto stretto con la persona positiva in modo che possano in qualche modo isolarsi e mettersi in attenzione per verificare se sono state contagiate però a loro volta isolandosi evitare di contagiare altre persone e l'app ha avuto delle evoluzioni in questo dal primo giugno 2020 che è partita così al primo giugno gennaio 2021 in cui appunto c'è questa funzione nuova che segnala la possibilità che è l'autosblocco per poter da soli poter nel momento in cui uno ha un tampone positivo trasmettere al back-end delle prove chiavi fino al primo giugno 2021 ci auguriamo che sarà questa la data di disponibilità dell'Odash scritto Digital Clean Certificate perché il nome europeo ancora non è stato definito comunque sarebbe la certificazione verde Covid-19 certificazione che si avrà per vaccinazione tampone negativo guarigione e che consentirà quindi l'accesso in sicurezza diciamo in alcuni luoghi soprattutto quelli più affollati i numeri di muri sono pubblicati quotidianamente tutti i dati di analytics sono resi accessibili in questo sito di governo immuni.italia.gov.it alimentato appunto dal back-end del ministero della salute e degli immuni e riporta i download dei positivi e le notifiche inviate i dispositivi utilizzati e anche altri diciamo l'app interoperabile a livello con le altre app di contattesimo europeo dal ottobre 2020 e quindi con tutti questi altri paesi devo dire che questo è stato un grande lavoro che abbiamo fatto anche a livello europeo per facilitare insomma la mobilità anche nei momenti più difficili di di diffusione del virus i dati di immuni e dei pubblicati sul sito sono anche pubblicati su guitar quindi sono scaricabili e abbiamo avuto evidenza come il ministero della salute che sono stati anche abbastanza utilizzati da diversi ricercatori anche università eccetera per fare le mie analisi per capire anche come si andava perché il contattesimo digitale è uno strumento anche di capire come si sta muovendo la diffusione del virus ovviamente circoscritto a chi ha l'app immuni però c'è stato un momento in questo in che l'app era veramente molto attiva per cui oggi abbiamo il 19% della popolazione che l'ha scaricata e abbiamo superato diciamo in alcuni mesi più del 15% di popolazione che la teneva attiva e il contact tracing ha cominciato a funzionare bene come dimostra un studio dell'università di Oxford che dopo diciamo basta il 15% della popolazione perché il contact tracing digitale comincia a raccogliere i propri effetti ora siamo un po' scesi l'app è stata disinstallata ci auguriamo veramente che si possa ripromuoverla perché è uno strumento molto importante di sanità pubblica che si può affiancare agli altri che stiamo mettendo che abbiamo messo in campo e sul per quanto riguarda il piano strategico nazionale dei caccini invece che è stato creato proprio diciamo è stato fatto evolvere un sistema informativo che è l'anagrafia nazionale vaccini che già esisteva era del ministero della salute per favorire la raccolta diciamo quotidiana addirittura tre volte al giorno dei dati delle somministrazioni dei vaccini anticovidi 19 da parte delle regioni al ministero della salute che a sua volta poi provvede a trasmetterli in maniera aggregata alla struttura commissariale che utilizza questi dati sia per la logistica sia per pubblicarli sulla dashboard di governo e li trasmettiamo all'istituto superiore di sanità proprio per questo lavoro di sorveglianza immunologica e farmacopidemiologia di cui vi farò vedere alla fine dell'intervento tre slide in quanto il lavoro è stato pubblicato la scorsa settimana e devo dire è molto molto confortante da un punto di vista proprio diciamo come cittadina lo dico perché dimostra l'efficacia delle vaccinazioni l'abbattimento del rischio di contrarre la malattia ma soprattutto l'abbattimento quasi a zero degli eventi avversi più fatali e lo trasmettiamo anche al sistema testera sanitaria che consente e assicura la circolarità e l'univocità della proprietà delle vaccinazioni mobilità anche per coloro che si vaccina in una regione fuori di quella di residenza oppure che fanno la prima dose in una regione e la seconda dose in un'altra quindi come sistema nazionale TAS consente conoscendo esattamente la collocazione sia di residenza che di assistenza delle persone consente questa possibilità di una mobilità vaccinale che è successo? sono tornata qua? ecco questa è la dashboard ieri sera ho scaricato i dati questi dati sono consultatissimi infatti ieri mattina abbiamo avuto un ritardo nel trasferimento al commissario e si sono andati a impicciare un po' le procedure di aggiornamento di questo sito che è rimasto bloccato per circa tre ore e sono arrivate le telefonate di tutti i giornalisti dicendo che è successo non si è fermata la campagna vaccinale ma purtroppo i sistemi informatici non sempre sono così perfetti bisognerebbe avere un po' di tolleranza ma siccome questi dati sono di interesse veramente nazionale basta un piccolo disagio e abbiamo anche questi effetti collaterali l'open data è una cosa bellissima ma dall'altra parte perché in genere il dato diventa un onere ogni volta che per qualsiasi motivo tecnico ci sono dei problemi questi dati sono anche a livello regionale si possono navigare e sono per sesso categoria fascia di età e abbiamo cercato di rendere l'informazione il più completa possibile in modo da poter garantire a breve questo discorso delle categorie verrà riformattato solo per fascia di età perché come voi sapete questo rispetta le priorità del piano inizialmente le priorità erano finalizzate agli operatori sanitari agli operi 80 poi c'è stata l'attivazione degli ospiti dell'RSA scusate sempre all'inizio in primissima ora poi abbiamo avuto i operatori scolastici e il comparto sicurezza e poi sono cominciato i soggetti vulnerabili e le varie fasce di età siccome ormai siamo arrivati che tutte le categorie prioritari sono state comunque fatte penso che verrà condiviso solamente per fasce di età aggregando un po' tutti quanti in modo che si vede mano a mano il progettire della vaccinazione anche i dati del piano vaccini sono sugli tab e insomma sono anche questi sappiamo che sono state realizzate tante dashboard automatiche soprattutto da molti giornali e infatti ieri mattina proprio solo 24 ore l'anno 24 ha pubblicato perché veniva meno 1700 quindi era ovvio che c'era un problema nella disponibilità del dato e hanno scritto dato errato a causa di un guasto nei flussi del ministero della salute quando si è ripristinato il dato in automatico si è aggiornato ma purtroppo il claim sopra è rimasto per qualche ora anche se il dato era corretto ecco questo è il lavoro che abbiamo pubblicato insieme con l'istituto superiore di sanità diciamo attraverso un record linkage tra l'anagrafe nazionale vaccini anti-covid e il sistema di sorveglianza covid-19 dell'istituto che ha consentito di incrociare di verificare se le persone che poi sono risultate positive dopo la vaccinazione diciamo qual è stato un po' il rischio infettivo post-vaccinale quindi confrontando con i dati dei tamponi positivi la riduzione del rischio in questo grafico parla da solo e si vede anche che ovviamente il rischio si riduce dopo un tot numero di giorni quindi l'efficacia vaccinale come è ben descritto nell'evidenza scientifica e non è immediatamente al momento della somministrazione ma ovviamente ha bisogno di una diciamo costruzione di immunità che richiede almeno un paio di settimane è stato anche valutata la riduzione del rischio di diagnosi con successivo ricovero quindi non solamente il discorso di infettarsi ma poi avere anche degli esiti di malattia più complessi tanto da richiedere un ricovero e come vedete ancora di più si abbassa questo rischio così come quello dell'eventuale rischio di diagnosi successivo recesso che si abbassa moltissimo e questo è un risultato secondo me molto importante quello di questo lavoro che abbiamo condotto con l'istituto superiore di sanità da un punto di vista proprio di utilizzo dei dati perché siamo riusciti anche ovviamente prevedendo da un punto di vista normativo la possibilità di fare questo però a organizzare sia da un punto di vista giuridico che da un punto di vista tecnico uno scambio un incrocio di fonti informative che sembra che il ministero della salute e il signore superiore di sanità siano la stessa cosa ma non è proprio così come ben sapete ogni organizzazione è anche complessa e quindi far parlare sistemi informativi di organizzazioni differenti non è così banale ed è invece stato un lavoro secondo me ottimo che noi ovviamente continuiamo perché è un lavoro che continua nel monitoraggio e che ha dato degli eccellenti risultati perché questo significa anche avere una conferma con i cittadini di andare con fiducia a vaccinarsi perché funziona e ho concluso grazie grazie dottoressa intanto ho preso un'informazione che non conoscevo nel senso che il certificato verde di vaccinazione sarà presente sull'applicazione di vaccinazione è un'informazione di vaccinazione però non vorrei dare informazione di vaccinato noi stiamo discutendo con l'interante di tutti i canali di distruzione del certificato verde che sarà sicuramente ben casciuto al canale elettronico che sarà scaricabile da un portale web attraverso le credenziali digitali di entità speed e cie e però stiamo studiando anche i canali con un'autenticazione un po' meno forte dell'identità di gilio ma più fattori attraverso appunto l'app immuni e eventualmente il portale web il garante ce li deve approvare però normalmente abbiamo capito che c'è da alcuni commenti che già ci ha fatto sui primi documenti che c'è assolutamente un appoggio per cui già stiamo sviluppando perfetto adesso do la parola a Umberto Rosini che magari ovviamente possiamo definirlo un po' l'anima un po' più tecnologica di questo aspetto dell'autenticazione di un'autenticazione è stato spinta a tutti noi di ripensare anche l'uso dei dati in emergenza ovviamente come protezione civile conoscono questo tema no? su processi a meno termine come possono essere altre situazioni la difficoltà proprio di gestire l'informazione di emergenza che ha bisogno che risponde ad altri bisogni rispetto invece a quello che ci ha illustrato sia Antonino che Serena di certificazione del dato certezza del dato delicatezza delle informazioni di tipo sanitario da verificare mentre nell'emergenza tu hai altri bisogni e sei disposto magari ad accettare un'informazione meno accurata però può essere operativa per chi agisce nei terreni dell'emergenza buongiorno buongiorno a tutti innanzitutto ringrazio i colleghi che mi hanno preceduto che sono stati molto chiari ed esplicativi nel dettagliare appunto la raccolta dei dati e tutti i processi che sono stati messi in atto cos'è innanzitutto il dipartimento della protezione civile è un'organizzazione che si occupa di salvaguardare la vita e la salute umana i beni e il patrimonio nazionale gli insediamenti umani gli animali ed ambienti dalle catastrofi o naturali o provocate dall'uomo quindi si occupa di previsione prevenzione emergenza e superamento dell'emergenza al fianco del dipartimento della protezione civile che è un dipartimento della presidenza del consiglio dei ministri c'è il servizio nazionale della protezione civile che è un sistema integrato composto da strutture pubbliche e privati sia centrali che locali che operano assieme appunto per operare in vari temi e in varie situazioni come è cominciata perché il dipartimento della protezione civile ha iniziato a derogare i dati prima in un formato pdf in open data attraverso dashboard tutto è nato per affiancare il ministero della salute nel processo di comunicazione appunto dei dati dell'emergenza il capo dipartimento è stato ad un certo punto ingaggiato dal presidente del consiglio dei ministri nel tenere una conferenza stampa inizialmente due volte al giorno poi giornaliera alle sei che era diventato un po' un momento cardine dove la popolazione veniva avvisata e proprio questo ha sancito la necessità di avere dei dati pronti da mostrare e da rilasciare alla popolazione ogni giorno in una determinata ora in questo c'è stata una grande collaborazione tra il ministero della salute e l'istituto superiore di sanità siamo partiti e questo non lo negheremo mai siamo partiti da quelli che erano degli excel quindi inizialmente abbiamo utilizzato gli strumenti che avevamo a disposizione dopodiché l'istituto superiore di sanità tramite del ministero della salute ha reso disponibile un sistema informativo per poter inserire i dati necessari alla comunicazione quotidiana quindi come funziona il processo le regioni compilano i dati su un applicativo messo a disposizione dall'istituto superiore di sanità che come ha detto giustamente Antonino già opera in questo senso quindi non ha dovuto costruire qualcosa di nuovo ma diciamo adattare modificare dei sistemi esistenti anche per la gestione di dati aggregati questi dati entro le 16 e 30 circa vengono comunicati quindi presi in carico dal ministero della salute che li verifica e una volta verificati li invia a noi al dipartimento della proiezione civile sull'applicativo ci sono dei warning non ci sono dei controlli bloccanti proprio perché non possiamo fermare la comunicazione del dato ma possiamo soltanto loro evidenziare eventuali anomalie che provengono da un'analisi dello storico o comunque da evidenti errori di battitura il ministero della salute quindi ovviamente utilizzando lo strumento messo a disposizione dall'istituto superiore di sanità invia i dati al dipartimento della protezione civile che a quel punto effettuano ulteriore controllo e qualità dei dati e nel caso evidenzia delle problematiche le subito sottomette al ministero della salute altrimenti procede alla trasformazione alla pubblicazione su github e sulla dashboard dico pubblicazione su github e sulla dashboard proprio ad indicare che prima viene generato il dato aperto poi questo dato viene messo su una dashboard infatti uno degli obiettivi del dipartimento della protezione civile dopo parlerò anche delle relazioni con la società civile uno degli obiettivi è stato proprio quello di pensare prima al dato e poi alla sua rappresentazione ovviamente gli obiettivi tra i dati che vengono erogati dalla protezione civile e quelli che vengono erogati dal ministro della salute e istituto superiore della sanità hanno due come giustamente ha detto Antonino hanno due necessità e scopi scopi differenti quindi quello della protezione civile era la comunicazione del dato alla popolazione che cosa abbiamo utilizzato il suo superiore di sanità ha sviluppato una web application noi per la trasformazione del dato abbiamo utilizzato degli script sviluppati in linguaggio python utilizzando un modulo che si chiama pandas che serve proprio per la gestione di dati e anche big data utilizzato delle pipeline tab quindi un'automazione del flusso di elaborazione del dato e poi per la dashboard abbiamo utilizzato lo stesso strumento che inizialmente la John Hopkins aveva utilizzato anche per il rilascio dei dati a livello mondiale quindi la dashboard Archegis quindi che cosa praticamente quindi torno a dire quali sono i controlli sono ovviamente dei warning ovviamente sui dati quelli di cui ha parlato Antonino c'è un controllo molto più approfondito della qualità del dato a questo viene aggiunto un'analisi dati manuale da parte del ministero della salute dopodiché una volta che i dati passano in protezione civile viene effettuato un'ulteriore analisi applicativa ma soprattutto e tengo a rimarchiare che teniamo molto in considerazione anche le issue aperte dalla community cioè tutte quelle evidenze che vengono inserite dalla società civile all'interno dello strumento che noi utilizziamo per il rilascio dei dati che è appunto Github vado avanti ecco io mi concentrerò soprattutto sull'importanza del dialogo quindi il mio è un grazie alla società civile alle community a tutte le organizzazioni che hanno lavorato con noi e con cui c'è stato un continuo una continua relazione abbiamo ovviamente ricevuto critiche come l'oggi ma tutto per noi è stato comunque uno spunto di riflessione soprattutto di miglioramento continuo di miglioramento continuo ecco perché non si deve pensare al rilascio dei dati dell'open data come una cosa che una volta fatta ha posto congelata così ma in ottica di miglioramento continuo e soprattutto impurmente dei servizi quindi miglioramento dei servizi anche a fronte del loro uso quanto sono importanti i dati nella pubblica amministrazione gli open data sono un'immensa risorsa io utilizzo sempre questa frase di open data handbook che dice appunto che sono un'immensa risorsa ancora in gran parte utilizzata e tengo da parte quella che è la necessità per legge perché deve essere proprio captata come un'opportunità il rilascio dei dati quindi tutti i dati quelli che ovviamente possono essere resi aperti dovrebbero essere resi aperti e disponibili all'uso di chiunque in questo parlo appunto della licenza cioè è necessario che questi dati vengano resi utilizzabili da chiunque la scelta del dipartimento della protezione civile per tutti i dati che verranno rilasciati quindi non solo quelli per il covid ma ultimamente abbiamo rilasciato per esempio gli aggregati strutturali di tutta Italia li abbiamo rilasciati con una licenza CC BY 4.0 ovvero citate la fonte dopodiché utilizzateli come meglio credete che cosa vuol dire l'importanza dei dati quindi la trasparenza la partecipazione l'innovazione il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici e la creazione di nuova conoscenza l'esperienza della protezione civile ha portato a definire appunto la nostra esperienza come una sorta di standard che magari potrà essere riutilizzato come poi è stato fatto anche da altre amministrazioni italiane e quindi i dati del covid sono stati utilizzati a livello mondiale da tutti e questo per noi è stato anche un obiettivo importante è un patto con chi andava ad utilizzare i dati del nostro ingaggio sul rilasciarli quotidianamente vado velocemente perché il tempo sta finendo importante è la collaborazione quindi il modello di collaborazione che c'è nel mondo del software open source deve essere riportato anche al modello dei dati in questo fa scuola il progetto Developers Italia ma è importante anche il progetto Forum Italia che è lo strumento per confrontarsi sui progetti strategici del paese ma poi possiamo utilizzare altri modi di collaborare e dialogare con la PIA porto l'esempio dell'issue di TAB dei dati covid che noi abbiamo utilizzato per il dipartimento della protezione civile ma anche per esempio il responsible disclosure policy di Pago PIA per quanto riguarda tutti i progetti che questa azienda che questa azienda rilascia vado vado avanti velocemente tutto ciò che verrà messo sul nuovo sito del dipartimento sarà anche rilasciato in formato aperto su TAB quindi anche i bollettini di criticità e di vigilanza meteorologica saranno riutilizzabili così come lo è da un po' di anni i dati della piattaforma radar che è quella che poi vediamo anche sui vari siti che parlano di meteorologia e soprattutto un obiettivo cioè per il dipartimento della protezione civile ovvero quello di far sì che ogni sistema software nativamente produca dei dati e quindi li rilasci a disposizione a disposizione di tutti ovviamente per ogni iniziativa è necessario pensare prima che la tecnologia e questo lo dice un tecnologo ai processi e quindi alla governance io ho concluso vi ringrazio alla prossima grazie e nel frattempo chiedo intanto è andato benissimo però il tempo è pochissimo poi ci ritorneremo chiedo intanto questa sezione la fermiamo per adesso qui e invito Mario Nobile e Andrea Cacchiarelli a aprire la loro webcam e poi magari alla fine se ce l'abbiamo un po' di tempo risponderemo alle domande oppure anche in chat si può rispondere in chat alle domande che vengono fatte e chiedo a Mario Nobile di attivare la propria webcam e ok ovviamente sta arrivando anche Mario Nobile salve allora intanto iniziamo subito entriamo subito nel discorso come sono stati strategici i dati sulla pandemia sanitari saranno in futuro sempre più strategici i dati sugli investimenti siccome ci sono state molte novità magari per non addetti ai lavori non sono chiarissime queste novità chiedo magari da Andrea di iniziare con la sua relazione per farci un quadro su diciamo il mondo dei dati intorno agli investimenti pubblici quali sono le caratteristiche principali che hanno avuto anche in quest'anno di mutazione grazie Andrea grazie grazie Sergio insomma cerchiamo un po' di cambiare un po' prospettiva ovviamente tante cose che ho ascoltato hanno legami con l'attività che svolgiamo quindi cerchiamo adesso di cercherò in qualche modo in questi minuti che ho a disposizione di fare un ragionamento più che altro di come si è mossa in particolare qui la presenza del Consiglio dei Ministri ma anche la pubblica amministrazione sul tema del monitoraggio degli investimenti pubblici sono un po' il testimone di un'attività che è iniziata addirittura 20 anni fa con diciamo un approccio un po' di cambiamento a che è rivolto al dato la digitalizzazione e alla creazione di banche dati che potessero consentire di avere una visione degli investimenti pubblici moderna possiamo dire attraverso appunto l'elaborazione di dati che potessero in qualche modo tradursi in informazioni poi in conoscenza come sappiamo tutti in modo tale da poter essere utilizzati anche per prendere le decisioni su dove e come investire nel 2003 fondamentalmente si decise in qualche modo di costituire innanzitutto una banca dati un'anagrafe nazionale dei progetti di investimento pubblico che era un po' il presupposto per poi parlare ovviamente di monitoraggio degli investimenti pubblici non avendo a quei tempi la possibilità di avere un censimento dei progetti di investimento pubblico era inutile comunque attuare già direttamente un sistema di monitoraggio che sicuramente avrebbe avuto difficoltà di attuazione e quindi diciamo le norme in ambito Cipe ovviamente ho lavorato già dal 2003 presso appunto strutture funzionali alle attività del Cipe in quei tempi c'era il ministro dell'economia ma poi il Cipe fu trasferito presidenza del Consiglio e attualmente di questa attività si occupa il Dipartimento per il coordinamento della politica economica e dunque in sostanza nel 2003 si decise di realizzare questa banca dati un bene pubblico nazionale all'interno del quale appunto sono registrati i progetti di investimento pubblico attraverso l'associazione di ogni singolo progetto ad un specifico codice il cosiddetto codice unico di progetto che insomma tralascio le informazioni di dettaglio su questo argomento perché presumo insomma che siano abbastanza diffuse sicuramente diciamo che sull'argomento andiamo ok allora benissimo allora durante gli anni quindi siamo passati ovviamente a questo nuovo paradigma cioè avere a disposizione finalmente un archivio su cui basare le attività di monitoraggio quindi lo sforzo fondamentalmente era stato a gestire questo database nel 2015 si è deciso a un certo punto anche perché il mondo degli open data cominciava a essere molto più solido e si è voluta cogliere l'occasione e quindi tutto questo patrimonio che nel frattempo si era memorizzato sulle banche dati che venne messo in modalità open attraverso un portale dedicato tra l'altro finanziato anch'esso con risorse comunitarie e poi rifinanziato attraverso le risorse del Pong Governance che poi tra l'altro stanno finanziando anche questa vostra iniziativa e attualmente è patrimonio di tutto il portale di tutti la disposizione dei dati sugli investimenti pubblici sulla programmazione degli investimenti pubblici sul portale opencoup opencoup.gov.it potete digitarlo tranquillamente e andare a visualizzare per chi non l'avesse già fatto che cosa è stato realizzato si passa da una fase di navigazione del dato alla disponibilità degli open data veri e propri per l'utilizzo ovviamente di elaborazioni per varie finalità anche lì la licenza ovviamente è quella che ha già citato il collega precedentemente stiamo parlando di 6x4.0 quindi con le stesse finalità appunto di utilizzo basta ovviamente citarne la fonte qual è cercate adesso di fare un discorso un po' più in prospettiva cercando di dare un po' un valore giunto a questa chiacchierata è che ovviamente la disponibilità del dato è funzionale o comunque è condizionata anche dalle procedure di rilevazione di questi dati e l'esperienza almeno che ho avuto io che abbiamo avuto noi ha fatto emergere che un'attenzione va apposta fondamentalmente sull'aspetto della qualità del dato la correttezza e quindi i sistemi che sono attualmente gestiti qui dal Dipe sono sottoposti e sono stati sottoposti ovviamente a continuare attività di manutenzione anche perché appunto l'offerta del dato si può fare attraverso strumenti quali può essere un portale vendita ma la bontà poi della possibilità di utilizzare questi dati è funzionale ovviamente alla qualità e quindi abbiamo cercato di operare man mano su questo argomento poi da ultimo sono emerse anche delle nuove esigenze che probabilmente saranno un po' in prospettiva futura quelli che saranno gli obiettivi cioè riuscire in qualche modo a plegare o comunque adagare le informazioni in modo tale a poterle mettere in relazione tra loro con una certa semplicità e abbiamo introdotto delle nuove funzionalità all'interno del sistema per esempio proprio in occasione della verificarsi della pandemia a maggio dello scorso anno abbiamo introdotto un'apposita flag all'interno del portale dell'analografe dei progetti degli investimenti pubblici in modo tale che gli utenti che si apprestavano a generare dei codici CUP per progetti che hanno a che fare comunque con l'emergenza covid potevano segnalarlo che cosa ha comportato questo tipo di soluzione ha comportato che oggi come potete andare a vedere sul portale OpenCUP è possibile usufruire del lavoro fatto dalle amministrazioni appunto che hanno alimentato il database e a maggio del 2020 abbiamo registrato più di 100 mila interventi per un importo di 11 miliardi circa di euro di risorse programmate su questo argomento queste informazioni sono state già rese a disposizione proprio in occasione della settimana dell'amministrazione aperta quindi vi invito ad accedere a queste informazioni per farne ovviamente l'uso che ritenete più opportuno e quindi in sostanza verso il futuro ci stiamo orientando a fare in modo tale che oltre a censire queste informazioni l'utente ci possa dare quelle segnalare quegli ambiti che permettano poi di utilizzare ulteriormente l'informazione per darne proprio un valore aggiunto come adesso stanno scorrendo le slide ovviamente un altro aspetto che secondo me è degno di nota è vero aver pensato appunto alla realizzazione di questa banca dati per registrare i progetti di investimento pubblico ma adesso il legislatore ha voluto fare un ulteriore passo secondo me determinante cioè mentre la banca dati del sistema cup ha registrato ha svolto il compito di censire i singoli progetti adesso ci si è resi conto che questi singoli codici comunque devono essere collegati a un programma di spesa perché se si vuole avere effettivamente l'informazione se alcune programmi di decisioni politiche poi portano effettivamente a dei risultati ovviamente la strada è questa cioè individuare il programma di spesa stringere un collegamento molto strutturato con i singoli progetti che sono finanziati questo programma di spesa e poi avere le informazioni di monitoraggio solo attraverso queste modalità si può effettivamente capire se il dato è utilizzabile a vantaggio appunto di chi poi ne deve disporre ad esempio il cittadino che vuole sapere se quella norma che prevedeva il finanziamento quel tipo di investimento se effettivamente ha portato a beneficio oppure se ancora purtroppo i programmi sono rimasti effettivamente soltanto programmi il legislatore ha voluto investire su questo argomento tra l'altro imponendo anche una vera e propria sanzione per il mancato collegamento dei CUP e dei progetti finanziati all'interno appunto delle decisioni di finanziare un determinato settore di investimento un altro argomento che probabilmente anche se il tempo è molto limitato e che vi invito comunque e cerco di darvi come informativa che può essere magari di vostro interesse è che il codice CUP permette poi se utilizzato ovviamente su determinati sistemi di avere poi alla fine una filiera di informazioni che si muove dal momento in cui il progetto viene programmato quindi inserito nella banca di CUP al momento in cui il progetto sta in fase attuativa quindi viene realizzato e poi concluso che succede che le informazioni che si muovono diciamo durante questo ciclo di vita del progetto sono registrate da diversi sistemi la cosa importante almeno al nostro avviso è che attualmente sono stati gli strumenti che cercano di intercettare queste informazioni diverse informazioni nel ciclo di vita del progetto in prospettiva futuro probabilmente quello che serve è in qualche modo presidiare ciascuna fase di questo percorso e quindi per esempio nella parte CUP si sta presidiando come vi ho detto prima attraverso le nuove norme al legame che ci deve essere tra questi codici e l'effettivo programma di spesa di riferimento ci sono poi passaggi successivi ad esempio quando magari stiamo parlando di un'opera pubblica si va a gara e in questo caso ovviamente si eredita questo codice che si inserisce all'interno del sistema dell'ANAC dopodiché in fase di attuazione dopo eccessivamente all'esprimimento della gara si comincia a pagare a svolgere i lavori e ci sono altri sistemi di monitoraggio che si occupano di rilevare le informazioni attraverso questi partendo ovviamente con lo stesso codice ma rilevando informazioni aggiuntive passando poi appunto ad esempio alla fattura elettronica perché magari un progetto prevede pagamenti delle imprese che lavorano e quindi producono fatture elettroniche anche in questi strumenti deve essere riportato sia il codice gruppo e il codice CIGG e dopo di che c'è anche il pagamento da parte della pubblica amministrazione ecco questo è un percorso in cui le informazioni vengono alimentate e quindi in sostanza riuscire ad essere molto proattivi e molto attenti sulla dinamica che viene creata attraverso lo scambio di questi sistemi si potrebbe raggiungere un obiettivo molto caro a tutti cioè la possibilità che le informazioni si vengano a generare da sole senza che ci sia nessuno che in qualche modo debba alimentare in maniera manuale alcuni sistemi il dato da una parte potrebbe essere molto più tempestivo molto più veritiero perché effettivamente si prende il dato alla fonte e la riduzione degli errori ovviamente è garantita un passaggio in più ovviamente che ciascuno di questi sistemi abbia a disposizione con un proprio portale open che permetta anche ai cittadini di avere un'informazione completa e complessiva e veritiera su quello che succede nell'ambito del settore degli investimenti pubblici ok io avrei finito passo adesso la parola a Mario Nobile tanto grazie che hai fatto una sintesi di dieci anni di arrivo a questo diciamo a una reale tentativa di fare rendere interiore operabile tutte queste banche dati complesse degli investimenti pubblici inoltre è importantissima questa cosa che hai detto che inserendo tra i vari programmi anche il fatto di etichettare con gli investimenti covid-19 ho messo in chat il link che hai annunciato uno può ritrovare tutti gli investimenti che corrispondono al programma di covid-19 quindi a prescindere dal programma poi ognuno può ricostruirsi questa filiera dei dati che possono interessare la propria politica proprio su questo ovviamente chiedo a Mario Nobile che su questi argomenti in particolare gli investimenti infrastrutturali delle grandi opere poiché gli investimenti prossimi anni saranno una grandissima quota sotto il ministero di cui lui fa parte credo che siano più di 60 di miliardi futuri del PNRR solo per parlare del PNRR perché ci sono tanti altri piani importanti di investimento se ci può dare il suo punto di vista proprio sempre in quest'ottica di immaginare quello che potrebbe essere questo avvicinamento ai compiti dell'APA che deve svolgere compiti complessi ma trovare anche un equilibrio di copartecipazione in qualche modo di dialogo con la società civile che specialmente sugli investimenti pubblici chiede un presidio sempre maggiore proprio ieri abbiamo fatto un webinar dedicato a Open Coesione e a Moniton che è l'esempio un po' per tutti su come monitorare gli investimenti pubblici in quel caso riguarda solo investimenti dei fondi strutturali però è un modello da da generalizzare ci sono tanti altri progetti che chiedono proprio questo di poter partecipare in qualche modo per dare un contributo ti lascio la parola Mario grazie Sergio saluto saluto anche io Andrea il CUP come dire tutto il sistema CUP per noi è fondamentale perché poi anche nel nostro portale come Sergio sa bene visto che ha contribuito anche a progettarlo e a costruirlo è fondamentale perché sia nel portale con l'esposizione dei dataset sia nei portali un po' più grafici come OpenCantieri noi facciamo uso della cooperazione applicativa con il mondo CUP quindi ringrazio Andrea ancora una volta perché evidentemente poi è inutile replicare i corredi informativi quando questi sono già racconti quindi CUP è stata una delle innovazioni più importanti perché dare un codice fiscale a un intervento o un investimento significa poi come diceva Andrea prima avere una filiera integrata di informazioni poterlo seguire ogni volta sì noi abbiamo circa 60 miliardi di euro di investimenti che non sono soltanto da recovery fund quindi da risorse europee ma ci sono anche un fondo complementare c'è uno scostamento di bilancio ci sono i fondi di sviluppo e coesione quindi abbiamo cercato di raggiungere una convergenza sulle fonti di finanziamento e di attivare investimenti utili a farci come dire traguardare i prossimi anni con indubbiamente delle logiche keynesiane delle logiche di investimento pubblico che comunque faranno bene all'economia nazionale ma anche per cercare di evitare di avere liste diverse su fonti di finanziamento diverse perché poi alla fine l'investimento pubblico l'investimento non solo in grandi opere Sergio perché dice il rinnovo delle flotte i treni per i pendolari c'è una scheda sul maschio sul mobility as a service che co-gestiamo con il ministero dell'innovazione digitale perché è la missione uno quindi ci sono tanti interventi di investimento fatemi dire materiale e immateriale ovviamente con proporzioni diverse però ecco io quello non ho preparato delle slide perché da stamattina che sto facendo peraltro riunioni con la ragioneria con altri colleghi c'è lo spirito un discorso interattivo e due domande domande dei partecipanti perché altrimenti la curva di attenzione si abbassa essendo l'ultimo a parlare io posso fare già due domande che ci sono arrivate in questi giorni ovviamente in attesa che diciamo a livello sappiamo che il PNRR adesso è l'attenzione totale su queste cose e sicuramente è previsto che il MEF faccia un sistema di monitoraggio e che le informazioni siano messe a disposizione anche della società civile proprio per fare quelle cose che siti come Open Coesione o altri siti hanno permesso OpenCoop cioè di fare un minimo di seguire Sergio scusami prima di farmi la domanda fammi dire soltanto questo perché vedrai che cambierai la domanda questo è tutto vero ovviamente come dire sia noi come Minx ma stamattina ne ho parlato anche con Carmine Di Luzzo quindi la ragioneria che è l'uomo chiave della ragioneria per il rapporto con Bruxelles il tema del monitoraggio degli investimenti è un tema fondamentale sul quale diamo per scontata poi potremo essere come dire bravi meno bravi dovremo essere più reattivi correggere alcune cose in corsa io questo lo do per scontato come principio il principio e qui ti chiudo questa mia introduzione poi bersagliami di domande il principio è che in questo momento la nostra impostazione è quella di cercare la valutazione di impatto quindi stiamo dando per scontato che le cose che ha detto Andrea che sembrano semplici che ha agganciato 3-4 slide sembra un percorso molto fluido in realtà dietro c'è una complessità enorme organizzativa di processi di interlocutori lui ha interlocutori strutturati faccio due nomi le stazioni appaltanti più importanti d'Italia ANAS ed RFI con le quali interopera in maniera semplice perché hanno un IRP un sistema gestionale che va dalla contabilità alla commessa e quindi lui va a prendersi il dato giusto e corretto fino a interventi che sono gestiti da soggetti poco strutturati ma non perché siano cattivi perché magari sono un piccolo comune che ha 20 dipendenti al quale certamente non puoi chiedere una cooperazione applicativa o uno scambio di IPI perché quelli hanno milioni di cose da fare e hanno un progetto che stanno gestendo quindi c'è una complessità enorme ma io sto andando già un passo oltre e dico dando per scontato che potremo essere bravi o meno bravi e offrire diciamo il quadro che Andrea ha tracciato prima cioè io monitoro l'investimento apro le informazioni in modo che ci possano essere soggetti indipendenti la società civile monitor ma anche il singolo cittadino che va lì si scarica il data se lo elabora e inizia a fare delle sue valutazioni questo lo do già per scontato il punto è un altro ed è un punto più complicato sul quale stiamo ragionando e tra poco ragioneremo anche con la società civile evidentemente ed è quello di valutare gli impatti non parliamo dell'output le slide che ci ha fatto vedere Andrea sono calcolo l'avanzamento fisico l'avanzamento temporale cioè in termini di processo valuto fino all'output del processo quello che è l'impatto cioè l'outcome è per definizione non collegato solo al processo cioè non è un qualcosa di endogeno ma è esogeno esempio rinnovo le flotte dei treni pendolari tema che interessa a tutti noi che usiamo il trasporto pubblico e vogliamo prendere il trenino per spostarci nelle aree metropolitane e non solo quante persone in più utilizzano i treni quant'è la quota modale che riduciamo al trasporto privato l'inquinamento polveri sottili aumenta o diminuisce attenzione perché nei primi mesi del covid noi siamo rimasti molto sorpresi dal fatto che l'inquinamento atmosferico in alcune grandi città tra cui Roma per certi parametri è aumentato nonostante certe valutazioni preliminari fossero ovviamente di avviso contrario ok quindi l'impatto significa che anche se io fossi la persona più brava del mondo e decidessi di investire con un approccio data driven facendo delle simulazioni e dei modelli quindi dicessi voglio definire questa linea ferroviaria ad alta velocità perché i modelli mi dicono che l'offerta di questa linea provocherà un aumento della domanda su questa linea e io sposterò persone dall'auto privata al treno poi gli impatti non sono come dire simulazioni modellistiche sono i fatti reali e purtroppo hanno a che fare anche con la resilienza che dobbiamo avere in questo momento rispetto alla pandemia domani rispetto a un cambiamento climatico un innalzamento del livello del mare c'è tante cose che possono provocare shock e impatti d'accordo allora il punto modale è vero è come abilitare un sistema di valutazione degli impatti che non soltanto tenga conto e non lo sto come dire riducendo l'importanza del lavoro che ci ha fatto vedere Andrea e che sarà il lavoro che stiamo facendo tutti insieme alla ragioneria per dare tra un po' di mesi diciamo vediamo per scontato e non è così in realtà nella valutazione di impatto attenzione perché non essendoci una modellistica chiara e certa dobbiamo capire come allargare e aprire le informazioni per consentire anche alla società civile di fare delle valutazioni di impatto come gli esempi che stavo facendo quindi questo è un punto e chiudo così mi puoi fare le domande questo è un punto sul quale ad esempio stiamo vedendo gli obiettivi dell'agenda 2030 quindi gli SDGs gli obiettivi di sviluppo sostenibile che sono molto semplificati sono 17 e sono abolizione della povertà e altri macro concetti ovviamente la nostra valutazione di impatto sta partendo da quei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile anche sui 60 miliardi dei nostri investimenti per dire se io modifico la forma delle città do dei contributi per la riqualificazione degli edifici o per la riqualificazione dei quartieri quali obiettivi di sviluppo sostenibile colgo ok questo è una valutazione ex-ampe ma ex post su quella città che succede i prezzi delle case aumentano o diminuiscono la fascia grigia cioè le giovani coppie magari con un lavoro a tempo determinato riescono a trovare casa oppure no allora chiudo per dire il nostro sistema informativo di monitoraggio PNRR ha un modulone che è quello di Andrea che lo ripeto dei modulini che stiamo incastrando che sono un modulo di valutazione d'impatto un modulo che si collega sempre al cruscotto decisionale del ministro dei vertici dei decisori politici che deve tener conto anche della società civile degli open data di quello che può provenire da quel modo per correggere quindi e chiudo veramente nell'esempio di prima della complessità io devo monitorare anche la conferenza unificata la delibera del Cipe il decreto interministeriale MIMS MEF per abilitare il rinnovo dei treni dei pendolari e non è banale e sappiamo che è lì che abbiamo parecchie complessità che potrebbero non consentirci di rispettare le scadenze temporali ma poi facendo finta che tutto vada per come è stato previsto quando io ho rinnovato quelle flotte cosa succede nel sistema paese? Chiudo vai con le domande era importante che ti facessi questa almeno per quanto mi riguarda almeno hai dato una prospettiva di rotta nel senso che giustamente come hai detto sul tema investimenti pubblici è importante come dire il motoraggio di atterraggio dei singoli investimenti sui propri territori e questo diciamo il discorso di Andrea ce l'ha illustrato quindi va benissimo il problema è che i livelli sono c'è a livello di programmazione c'è a livello di esecuzione c'è a livello appunto di valutazione dell'impatto sono tre momenti dove anche le richieste genericamente dalla società civile ma diciamo dal territorio perché poi c'è molta pubblica amministrazione locale che diventa quasi società civile che chiede informazioni su investimenti che vengono fatti magari sul proprio territorio e quindi scopriamo che i primi soggetti società civile magari sono i soggetti pubblici piccoli comuni appunto enti locali che vogliono informarsi di queste quindi in realtà dove magari si possono immaginare essendo dei piani pluriennali delle forme strutturate per ripensare proprio questo dialogo per diversi livelli con quello che noi chiamiamo società civile però come sappiamo è fatta di tante cose integrando già degli istituti o delle procedure che sono in atto nelle vostre amministrazioni faccio un esempio per tutte ovviamente gli open data sono uno strumento per tutti però per esempio per quanto riguarda le opere pubbliche c'è l'istituto del dibattito pubblico che è un istituto nuovo e su alcune situazioni avrebbe un impatto se sistematico cioè se a livello sistematico a livello nazionale ci fosse una visibilità anche di questi istituti diciamo di dibattito sulle opere e non dopo ovviamente devono avvenire prima o altre situazioni molto più semplici di logica di maggiori informazioni per quanto riguarda la valutazione appunto di impatto specialmente quando generano dei servizi allora magari si possono immaginare modalità nuove nella valutazione dei servizi generati dagli investimenti rispetto alla classica valutazione dei servizi pubblici assolutamente così e sai che è stata appena anche nominata da poco una commissione nazionale sul dibattito pubblico con la quale proprio ci stiamo interfacciando perché poi l'effetto NIMMI non nel mio giardino è un effetto pericolosissimo sugli investimenti pubblici per tutto quello che abbiamo detto e quindi assolutamente sì e anzi queste prime interlocuzioni con la commissione nazionale dibattito pubblico vanno proprio nella direzione di mettere a disposizione tutto il contenuto informativo di un'opera non un estratto anche perché le prime esperienze che sono state fatte penso a a a un'opera autostradale vicino a Bologna gli stessi soggetti attuatori hanno trovato giovamento facendo delle modifiche delle varianti dopo la fase dibattito pubblico perché attenzione l'ingegneria alla quale appartiene anche la gestione dei dati visto che è tutto un mondo unico non ha una come dire una certezza al 100% non esiste in ingegneria un concetto di sicurezza o di certezza del 100% quindi questo è utile non soltanto per la società civile i comuni noi i cittadini le amministrazioni ma è utile anche per il soggetto attuatore che magari ha progettato e non ha previsto un determinato elemento allora dato che siamo arrivati alle 13 e 29 strappo un po' in chiusura una promessa anche per per tutti noi magari di ritornare su questi argomenti sia per sui dati sanitari e questi investimenti un po' più di calma magari in modo separato quasi fosse già un tentativo di fare una valutazione dello stato avanzamento di questo rapporto tra appunto gestione dei dati da parte della PA e della società civile in questo tentativo di trovare sempre forme più efficaci di collaborazione quindi è solo un invito a iniziare magari un percorso anche in ottica siamo tutti in ottica di OpenGOV e quindi del piano quarto piano in chiusura dell'OpenGOV attuale ma diciamo in prospettiva di quello che sarà il nuovo piano di OpenGOV in futuro quindi intanto ringrazio tutti voi chiedo a Gianfranco magari di intervenire per la chiusura e intanto ringrazio tutti per la partecipazione il mio intervento è davvero solo un istante giusto perché ho aperto e quindi chiudo anch'io ma davvero volevo semplicemente rilanciare i ringraziamenti di Sergio di tutti volevo ringraziare tutti i relatori di oggi tutti i partecipanti vi ricordo che l'idea diciamo rilancio il tema del dibattito pubblico dicevo un attimo Mario l'idea di questa settimana perché ci muoviamo all'ambito della settimana di amministrazione a parte è proprio questa di provare a rilanciare in questa logica il dialogo tra società civile pubblica amministrazione e qualunque altro soggetto dare modo a qualunque altro soggetto di diventare categoria vocale di farlo nell'ambito di un riferimento che può essere proprio quello del governo aperto in maniera tale da migliorare da essere da stimolo a chi decide da essere da stimolo a chi implementa da essere da dare un minimo di restituzione di quelli che sono gli impatti funzionali a una migliore progettazione delle opere pubbliche stesse e quindi niente mi permetto di chiudere così vi ricordo che ricordo a tutti i partecipanti che a brevissimo cioè diciamo il primo pomeriggio dovremmo riuscire a pubblicare tutte le slide usate dai relatori di oggi alla registrazione integrale dell'intervento la pagina su cui trovate tutte queste informazioni è sempre quella da cui vi siete iscritti di eventi PA e vi invito a partecipare a questi ultimi giorni tra domani e dopodomani di settimana dell'amministrazione aperta e poi colgo il rilancio di Sergio e vedo che c'è anche Salvatore Marras in chat sicuramente avremo modo di tornare a parlarne magari proprio nell'ambito del progetto OpenGov magari proprio a proposito di OpenGov certamente considererei questo webinar come il preludio di un discorso più ampio sul tema dei processi di generazione dei dati e sicuramente di come tutto questo in qualche maniera diventi nella pratica OpenGovernment grazie a tutti grazie Andrea grazie Mario grazie a tutti i relatori grazie Umberto grazie Antonino Serena Battilomo temo ci abbia già lasciato comunque ancora una volta grazie a tutti voi mi avvio alla conclusione della stanza e grazie a tutti grazie a tutti